Il tempo di annunciarle e dopo poche ore sono state installate. A Salerno sono arrivate le barriere anti-attentati sul corso e sul lungomare. Dopo il via libera del sindaco in città arrivano i New Jersey sotto la supervisione della polizia municipale e con la curiosità di tanti cittadini e turisti, in vista di luci d'artista Salerno prova a scongiurare l'incubo terrorismo. Naturalmente Salerno in luci d'artista diventerà un obiettivo e quindi merita una particolare attenzione, cosa che noi abbiamo fatto anche negli anni passati per la verità. Ora, con un motivo in più, ci sono delle direttive del ministro Minniti che impongono delle norme cautelative rispetto alle quali noi ci stiamo attrezzando. Vi renderete conto che ci saranno problemi connessi, chiudere delle strade, lo si chiude al potenziale terrorista, la si chiude al potenziale terrorista ma la si chiude contemporaneamente a chi deve fare la carica e scala di commerci, la si chiude a chi deve fare opere di soccorso, la si chiude, insomma, diventa un problema, rispetto al quale noi stiamo facendo delle valutazioni attente, rispetto al quale daremo una risposta insieme all'assessore alla mobilità in concerto con prefettura e questura. Vedremo il modo per attenuare i disagi e per renderla sicuramente fare delle opere che poi siano veramente funzionali e non di facciata.